salve a tutti cari amici e fans di riccardo fogli benvenuti in questo nuovo video in questo video vi mostrerò la discografia che ho di riccardo fogli in formato 33 giri prima di iniziare a mostrare questi 33 giri vi devo informare che questa discografia in 33 giri include anche alcuni doppioni ma alcuni di essi hanno una stampa completamente diversa che può essere italiana tedesca scandinava greca giapponese eccetera eccetera e poi vi vedrete di cosa si tratta intanto inizio a mostrarvi uno ad uno i 33 giri di riccardo fogli iniziando da questo splendido caufanetto del 1986 con all'interno tre vinili più il giornaletto biografico lo si trova all'interno di questo splendido caufanetto poi 33 giri di riccardo fogli in espanol le prime canzoni stampa rca cantate e lingua spagnolo poi il mondo di riccardo fogli io ne ho due ma l'interno e stampa completamente diversa parlando comunque dei centrini dei dischi perché uno c'è un colore e l'altro c'è un altro colore poi 33 giri per Lucia stampa scandinava poi 33 giri per Lucia stampa scandinava greca poi 45 giri però in formato 33 giri e un 12 mix voglio le tue mani il lato a il lato b include in una Dio come vorrei e voglio sognare questa è praticamente la ristampa del 1985 con queste due canzoni che vi ho letto che sono aggiunte in questa ristampa poi 1985 questa è la ristampa del 1985 con queste due canzoni che vi ho letto che sono aggiunte in questa ristampa poi riccardo fogli 1985 questa sarebbe la prima stampa ed è stampa italiana poi 1985 questa è stampa giapponese poi è in castellano le canzoni di grande successo storici come storie di tutti i giorni malingonia eccetera eccetera cantate in lingua spagnola poi 33 giri torna a sorridere stampa scandinava poi alla fine di un lavoro 33 giri stampa tedesca poi insieme con robbie facchinetti e riccardo fogli poi omonimo 1976 io di questo ne ho due poi 1985 terza edizione questa è stampa messicana questa canzone questo 33 giri vi dico che inizia con sulla buona strada in versione spagnola e lo conclude nel lato B con sulla buona strada versione italiana poi ci sta anche una terza versione che è quella strumentare di sulla buona strada questo è molto raro poi voglio le tue mani questo è un 12 mix che contiene le due versioni remix e l'altra dance versione di voglio le tue mani il lato B include se il cuore non contasse niente in versione originale e uomini col borsello con helio e le storie tese poi ciò a metà del viaggio ho due di questi 33 giri a metà del viaggio e poi amore di guerra 33 giri stampa italiana torna a sorridere 33 giri di stampa giapponese con orbi è troppo importante un gesto la presenza e la forza di sentirsi uniti di questo 33 giri di stampa giapponese con orbi ne ho due ciao amore come stai io di questo 33 giri dei soldi di Riccardo Foy la solista ne ho tre però allora questa è la stampa promo sarebbe la ristampa praticamente e questa di ciao amore come stai è la prima stampa RCA le infinite vie del cuore ne ho due di questi 33 giri poi amore di guerra 33 giri stampa tedesca poi campione allora di campione c'ho tre eh tre 33 giri due sono di stampa italiana e uno è di stampa tedesca questo è quello di stampa tedesca e queste due sono di stampa italiana comunque c'è non sta un altro dietro di stampa italiana adesso che scorro vi faccio vedere allora andiamo andiamo avanti compagnia allora di compagnia c'ho due stampe italiane di 33 giri una stampa giapponese e due stampa tedesca io ti porto via io ti porto via io ti porto via ne ho tre di 33 giri uno due tre poi teatrino meccanico non finisce così non finisce così compagnia ah questa è stampa italiana poi la trilogia riccardo fogli 1 riccardo fogli 2 e riccardo fogli 3 scusate riccardo fogli 3 che ne ho tantissimi di 33 giri quindi allora l'altro a metà del viaggio poi questa è una stampa promozionale anzi un'anteprima di amore di guerra questo è rarissimo collezione 33 giri di stampa giapponese con hobby per lucia di stampa scandinava questo è un misto di cantanti e riccardo fogli qua canta come cambia in fretta il cielo compagnia stampa giapponese poi andiamo avanti 12 mix buon natale pace il lato A che amore vuoi che sia e il lato B torna a solidere ho diverse stampe questa è stampa italiana collezione 33 giri stampa tedesca il sole l'aria la luce il cielo collezione stampa russa allora l'altro 3 giri compagnia questa è stampa tedesca ciao amore come stai la prima versione cioè la prima stampa torna a sorridere stampa greca scusate se ogni tanto questi cadono però è che ne sono tanti collezione 33 giri stampa italiano sentirsi uniti ecco così non cadono non cadranno più sentirsi uniti il sole l'aria la luce il cielo che ne sai io ne ho due di che ne sai il primo pure di questo 33 giri ne ho due ecco l'altro 33 giri campione di stampa italiana compagnia questa è stampa tedesca l'altro amore di guerra questa le infinite giri del cuore collezione stampa italiana che ne sai l'altro omonimo l'altro omonimo e per finire l'altro 33 giri di caldofogli il primo e questo è tutto cari fan si conclude qui questo enorme video adesso vi devo far vedere anche dei poster questo proviene dal 33 giri campione di riccardo foiti stampa italiana questo è di collezione questo è un altro poster e questo proviene da io di porto via e questo è tutto cari fans si conclude qui questo video dedicato ai 33 giri di riccardo foiti e se vi è piaciuto questo video scusate se qualche volta sono caduti alcuni 33 giri ma ne sono tanti però per fortuna non sono caduti a terra meno male però comunque ho continuato a fare il video perché comunque questo video doveva essere bello lungo lungo se vi è piaciuto mettete mi piace e se volete iscrivetevi al mio canale Roberto Zuccaro un saluto a tutti quanti voi da Roby questo cuorecino è dedicato a tutti quanti voi che siete iscritti al mio canale un saluto il saluto